Quindi quando vedo volare le frecce tricolori o quando c'è un astronauta nello spazio, di solito sono miei studenti. È stato un missile e non una bomba. Non ci sono i danni tipici del missile. È pazzesco che oggi, a tanti anni di distanza, ancora si discuta. Uno sostiene delle idee ignobili, io non devo rispettare quelle idee. L'attenzione, pensiero critico non vuol dire bastià il contrario, non vuol dire sempre il contrario di tutto. Significa cercare di capire cosa ci stanno dicendo. Come l'hai raccolto quel dato? Se è un dato su tutta la popolazione è un conto, se è un'estrapolazione da un campione di 200 persone, il tasso d'errore è più grande. Come sono costruite le domande? Ci sono persone o organizzazioni che manipolano scientemente l'opinione pubblica. E quindi anche lì la domanda è perché ci credi? O meglio, perché gli dai fiducia? Cos'è che ti convince? Benvenuti ad Unifans. Oggi siamo qui con Gregory Allegi. Volevo subito chiederti di introdurti e spiegarci che lavoro fai, qual è stato il tuo background e come sei arrivato ad essere chi sei. Bella domanda. Attualmente io insegno storia e politica degli Stati Uniti a Scienze Politiche, alla LUIS, e insegno anche studi strategici a UNINT, che è un'altra università romana. Sono nato negli Stati Uniti, cresciuto a metà tra Roma e gli Stati Uniti, studi a metà tra Roma e gli Stati Uniti. Diciamo che qui ho fatto il liceo classico. Non mi ricordo il greco, ma non avrei mai voluto fare il liceo scientifico, quindi va bene così. Ho studiato poi lettere, ho fatto la tesi su Gabriele D'Annunzio, quindi proprio una formazione completamente umanistica. Però in parallelo con questo mi sono sempre piaciute, mi sono sempre interessate le cose storiche, in realtà le cose in particolare di storia militare. Ho cominciato ancora al liceo a occuparmene, quindi ho avuto questi due canali, uno di formazione accademica, universitaria, anche metodologica e l'altro di passione. E queste si sono poi incontrate perché ho incominciato a occuparmi molto presto di aerei storici, di aerei d'epoca, quindi di museologia. E quindi da quel canale lì è partito tutto un lavoro con i musei aeronautici e la storia militare. Ho lavorato con tutti i musei aeronautici italiani, sono ancora il curatore di Volandia, che è un grande museo accanto all'aeroporto di Malpensa. Ho insegnato vent'anni storia aeronautica in Accademia Aeronautica Pozzuoli, quindi ho contribuito a formare circa 2.500 ufficiali, sia piloti sia di altri ruoli. Quindi quando vedo volare le frecce tricolori o quando c'è un astronauta nello spazio, di solito sono miei studenti, qualcuno anche mio laureato. In parallelo a Roma, ho cominciato con Renzo De Felice, che mi prese nel suo gruppo di assistenti, anche in maniera un po' semplificata, di un'epoca in cui si studiava in maniera diversa. C'era ancora il vecchio ordinamento, non c'erano ancora i due livelli, il tre più due. Erano gli ultimi scampoli del vecchio mondo. Da lì sono passato, poi dopo la sua scomparsa, a lavorare con il professor Francesco Perfetti in Lewis. Diciamo che Francesco teneva diversi corsi in Lewis e a me è toccato seguire la storia americana, per cui ho continuato poi su quel canale lì. Quindi sempre portando avanti sia la parte universitaria che la parte, diciamo, museale, eccetera. In più scrivo, sono giornalista, sempre nel campo militare, nel campo della sicurezza, della difesa, dell'industria della difesa, e quindi scrivo di quello. Ora, è un percorso un po' confuso, però ha anche un vantaggio, che, diciamo, frequentando diversi ambienti c'è una fertilizzazione di idee. Si acquisiscono prospettive, si acquisiscono linguaggi, si acquisiscono competenze, si acquisiscono conoscenze diverse. Il rischio è una gran confusione e non si conclude niente. Il vantaggio è quando, per esempio, descrivendo il classico aeroplano, facendo un testo per un museo, un documentario, si hanno sia le prospettive tecnologiche sia le prospettive storiche. Non si racconta soltanto quanti bulloni ha o a che serviva, ma qual era il suo ruolo in un contesto più ampio. Io credo che tutto questo abbia fatto una certa confusione rispetto ai colleghi che stanno in un campo o nell'altro in maniera esclusiva, però credo che alla fine io ne abbia tratto un certo giovamento come apertura mentale, come esposizione a diversi contesti. Per quanto riguarda i suoi libri, ho avuto la fortuna di leggere Ustica e o l'ingiustizia civile, che mi ha appassionato tantissimo. Vorrei complimentarmi per come scrive. mi sono veramente immerso. A proposito di questo, ci sono state recentemente delle dichiarazioni di Giuliano Amato, l'ex presidente del Consiglio, che ancora oggi ripropone il fatto che è stato un missile e non una bomba. Cosa pensa di queste dichiarazioni così fuori? Sì, grazie alla domanda. Intanto la prima cosa è che i libri sono come i figli, sono piezze core. Io ne ho scritti tanti, ognuno ha dietro una storia, che è una domanda, non è soltanto un lavoro, non è soltanto una pubblicazione accademica, ma c'è qualcosa che ti spinge a farlo. Nasce per raccontare, per spiegare, se non per spiegare una cosa, per spiegare perché ci si è posti una domanda. E Ustica è più o meno quella storia lì. Non me lo ricordo a un ragazzo, perché quando cadde il 19 o 17 anni, quindi era abbastanza grande da rifletterci, incominciavo a giocare con gli aeroplani, a conoscere l'ambiente e quant'altro, e da subito ho avvertito la differenza tra la narrazione pubblica, la narrazione giornalistica, mediatica, anche politica, e quello che vedevo, che toccavo con mano, lavorando e frequentando quell'ambiente. Quindi, anche prima di fare ricerche sui documenti, la mia esperienza e il mio vissuto erano non c'è un complotto. Queste cose che dite, questo modo che immaginate di funzionamento, non corrisponde alla mia esperienza personale. È chiaro che l'esperienza personale va sempre usata con grande cautela, con grande cautela perché il fatto che, per esempio, io non sia mai stato derubato per strada, non vuol dire che non esistano gli scippi. Però le valutazioni sul clima culturale, sull'ambiente, eccetera, quelle hanno un loro peso. E quel libro lì contiene queste due parti. La prima, forse quella più divertente, quella che le è piaciuta di più, che sono i piccoli episodi, sono le schegge di questo grande racconto, dove, per esempio, dico guarda che seguendo il processo da giornalista io certe persone in aula non ce le ho mai viste, anzi, non ho mai visto nessuno e quindi mi chiedo il racconto che viene fatto da dove venga, visto che col mio quadernino a prendere appunti c'ero solo io. L'altro è il saggio storico, quello da professore, con le note, eccetera, che lo spiega in maniera più organica. Ora, per sintetizzare un discorso molto complesso, molto lungo, cioè perché credi alla bomba? Intanto parliamo dei termini. Io non credo alla bomba perché non è come il tifo calcistico, non è come una religione. Credo perché mi è apparso la divinità sul Monte Sinai. Mi sono convinto leggendo le carte, leggendo i documenti e confrontando le narrazioni con l'esperienza. Quindi è un po' più che credere. Detta però semplicemente i missili e le bombe lasciano tracce diverse. Se vogliamo fare una cosa un po', diciamo, televisiva, eccetera, pensiamo a un CSI, un morto investito da un'auto presenta tracce diverse da uno pugnalato. Non c'è nulla di male a dire che è stato investito da un'auto. Poi però bisogna vedere se sulla Salma ci sono quelle tracce. Le tracce del missile sono quelle che, come posso spiegarlo, ecco, quando siamo stati in campagna, in montagna, a passeggiare, spesso troviamo dei cartelli stradali che hanno tanti buchi perché qualcuno li ha sparato col fucile a pallini. Ecco, quel tipo di danno, i fori strappati, è tipico della testata del missile che non colpisce direttamente l'aereo, cioè non fa così. In realtà si ferma qui, si apre e manda le schegge sull'aereo, lo bucherella. Quindi gli fa quell'effetto cartello stradale di campagna. Chiunque può andare a vedere il relitto a Bologna esposto nel Museo della Memoria e vedere che quel tipo di rottura quel tipo di danno non c'è. Ce ne sono altri, naturalmente, non è intero, ma quello lì che è proprio il DNA, è proprio l'impronta digitale del missile, non c'è. Io sono convinto, quindi, dal ragionamento di chi ha analizzato fisicamente il relitto e ha detto che non c'è. Parlo del collegio peritale d'ufficio, quindi i periti nominati dal giudice che rispondono al giudice. Su questo, visto che parliamo con un pubblico di studenti universitari, magari non tutti di giurisprudenza, però insomma persone che stanno studiando, è bene ricordare che il perito d'ufficio presta giuramento di dire la verità, mentre il consulente di parte, quello che assiste l'imputato, non presta giuramento, fa delle relazioni tecniche, ma è chiaro che lavora nell'interesse del proprio assistito senza obbligo di verità. Certo, se poi dice proprio il contrario, magari qualche guaio lo passa, però tendenzialmente non ha quell'impegno. Quindi io leggendo le carte, leggendo le relazioni, confrontandole, parlando con diversi di questi periti, perché della commissione Misiti ne ho conosciuti 5-6 a memoria, mi sono, ho trovato convincente la loro ricostruzione, cioè che non ci sono i danni tipici del missile e questo loro lo scrivono all'unanimità nell'europerizia e invece ci sono le tracce della bomba. Quali sono le tracce della bomba? Le tracce della bomba sono diverse, ma fondamentalmente sono due. Una è il tubo che risciacqua il water della toilette, che è un tubo, quindi è tondo. Questo l'ho fatto con la carta, è tondo, in realtà è di metallo, non è di carta, e loro l'hanno trovato piatto, così, come una fettuccia. È stato riprodotto in laboratorio. Per schiacciare quel tubo e farlo andare da tondo a piatto serve una pressione di quasi 400 kg per centimetro quadrato. Quindi serve uno spostamento d'aria lì davanti. L'altro è il lavabo, il lavandino, sempre della stessa toilette, che è, come in tutti gli aerei, è una semisfera di acciaio di alcuni decimi di livello di spessore. Ora, questa semisfera, quando l'hanno ritrovata, era così, era cartocciata e bucherellata. Quindi, non le tracce appunto dello scolapasta che avrebbe fatto il missile, manda tanti buchetti, la lascia, diciamo, integra, bucata. No, anche essa ha subito uno spostamento d'aria che l'ha stravolta. Questi sono due pezzi che nell'aereo stanno a poche decine di centimetri. E' questo che ha convinto all'unanimità, ripeto, i periti a dire che nel bagno, nella toilette, in coda, è stata messa una bomba che è scoppiata e che con lo spostamento d'aria ha creato quei danni che non si possono produrre in alcun altro modo. Faccio anche qui un esempio un po' CSI. Faccio un'autopsia. Dire che il morto ha il cuore fermo non è questo grande aiuto a capire che è successo perché tutti i morti hanno il cuore fermo. Se però trovo che ha un buco nel polmone posso dire gli hanno sparato l'hanno accoltellato al polmone. Se trovo che il cuore è rotto posso dire ha avuto un infarto ma di per sé il cuore fermo non è una caratteristica decisiva nel sapere cos'è accaduto perché tutti i morti hanno il cuore fermo. Quindi quando vennero recuperati in fondo al mare questi pezzi con queste caratteristiche uniche che non si possono essere prodotte in altro modo il collegio per Italia disse abbiamo capito cos'è successo. E questo era il 1994 stiamo parlando di 30 anni fa. È pazzesco che oggi a tanti anni di distanza ancora si discuta di quello che è successo proprio perché la conclusione tecnica è stata già raggiunta è chiaro che la legge ci insegna che il magistrato è peritus peritorum è l'esperto fra gli esperti è quello al quale alla fine tocca aspetta anzi decidere quanto la perizia sia credibile nel suo complesso quindi dal punto di vista formale che il giudice istruttore Rosario Priore non abbia condiviso i risultati della perizia è corretto è legalmente accettabile il problema è che non è riuscito a trovare nonostante altri cinque anni di indagini alcuna prova della presenza del missile il missile oltre a quella traccia fisica bisogna anche che abbiamo detto i buchetti bisogna anche trovare chi l'ha lanciato e quindi passiamo allo scenario radar ebbene anche qui le perizie e l'analisi delle perizie poi in aula al processo in dibattimento hanno concluso che non c'è un aereo intorno al 19 in un raggio di 50-60 miglia cioè semplificando 100 chilometri quindi non c'è l'aereo che lancia il missile non ci sono le tracce del missile ci sono delle tracce che può avere solo fatto la bomba questo è il motivo per cui la commissione conclude bomba ed è il motivo per cui il ragionamento mi convince quello che trovo cerco di concludere qui perché su ustica potremmo parlare per ore quello che io trovo incomprensibile francamente delle dichiarazioni del professor Amato è che dica nel 2023 cose che sono state appunto esaminate e sostanzialmente smentite in un processo che si è svolto dal 2001 al 2004 quindi non sono delle novità sono le solite cose è un po' come se oggi qualcuno dicesse che Enzo Tortora era un camorrista uno spacciatore di droga quando in realtà sappiamo che è stato assolto dall'accusa e quindi la mia domanda è perché ci fermiamo all'accusa ci fermiamo al rinvio a giudizio quando Priore dice queste persone vanno processate senza tener conto del fatto che poi sono assolte questo credo che sia un fatto abbastanza importante per tutti noi per la nostra vita civile come cittadini perché significa che non c'è modo di sottrarsi a un'accusa anche dopo che si è dimostrato di essere innocenti e la cosa più sgradevole degli interventi diciamo del professore Amato e della discussione che ne è seguita è l'assunto che i generali abbiano mentito che abbiano detto cose non vere per nascondere la battaglia aerea ora il punto principale è che non c'è traccia della battaglia aerea ripeto in dibattimento sono state esaminate centinaia di dettagli migliaia di documenti decine e decine di testi ed è questa battaglia aerea non si è trovato traccia questa è la prima cosa la seconda è veramente abbiamo parlato di prima di vecchio iter universitario parliamo di vecchia procedura penale voi siete tutti giovani quindi forse lo studiate come storia del diritto che nel 1989 è entrato in vigore in Italia il nuovo codice di procedura penale che poi tanto nuovo non è perché sono passati 35 anni bene siamo passati dal rito inquisitorio in cui appunto l'istruttore creava l'accusa contro di me e poi io in aula dovevo difendermi al rito accusatorio che è quello che conosciamo tutti perché ci siamo cresciuti guardando i film americani i law and order e quant'altro in cui il rapporto fra difese e accuse è diverso in cui la prova come dice la legge si forma in dibattimento viene portata in aula e si vede se convince nel vecchio sistema la prova nasceva fuori dall'aula e il povero imputato doveva riuscire a smontarla ecco il rito inquisitorio fa venire in mente che cosa la santa inquisizione i processi alle streghe la tortura per far confessare la classica cosa per cui la donna malcapitata accusata di stregoneria per esempio veniva buttata in un fiume una vasca d'acqua con una pietra legata e se riusciva in qualche modo a emergere viva era una strega se invece annegava e poveraccia si vede che era innocente ecco questo ha implicazioni sulla società ha implicazioni sul modo in cui viviamo e credo che Ustica indichi proprio questo il pericolo di un sistema in cui viene costruito un'accusa indimostrata indimostrabile e che invece finisce per schiacciare gli individui finisce per rovinare loro la vita anche dopo che sono stati assolti questo credo sia il motivo per cui dovremmo tutti conoscere la storia di Ustica non per comprare più copie del mio libro ma semplicemente guarda che cosa può accadere è chiaro che ci sono casi giudiziari evidenti semplici come dice sempre mio padre avvocato mi accusa tra virgolette di avere una visione romantica del diritto e di difendere gli innocenti lui racconta che passò dal fare il penalista a occuparsi di diritto commerciale internazionale perché dice guarda che in realtà i clienti del penalista sono criminali sono colpevoli nella maggior parte dei casi io con loro non voglio vero sicuramente ha ragione papà come sempre però il mio punto è che questi casi che distruggono la vita che incastrano le persone che creano anche danni su come noi percepiamo da cittadini il rapporto con lo Stato l'idea che i generali non servano lealmente lo Stato e così via ecco quello credo che sia una cosa pericolosa e credo che per questo sia utile sapere come è andata davvero riprendere fiducia nelle istituzioni sapere che ci possiamo fidare delle istituzioni lo dico anche come docente nella mia esperienza quei 2500 vostri coetanei che ho contribuito a formare sono delle persone come voi la divisa non li rende in astratto né migliori né peggiori però perché dobbiamo pensare che non siano al servizio della collettività al servizio dello Stato eccetera ma invece siano al servizio di loschi interessi e quant'altro ecco la lezione di Ustica per me è questa è questo che mi ha portato a appassionarmi e a studiarlo e andare anche abbastanza controcorrente perché indubbiamente è più facile sposare la teoria della battaglia aerea a scatola chiusa senza averla approfondita senza averla esaminata e quant'altro io un po' di presenza mediatica ce l'ho ma non è che mi sia divertito tanto a trovarmi su Repubblica con l'accusa di aver scritto un libro sulla bomba e la foto segnaletica ad addichettarmi al nemico del popolo c'è il pieno diritto per tutti di dissenso rispetto alle idee però non andrebbero personalizzate non andrebbe individuato come nemico chi porta idee diverse le idee in qualche modo su questo vado un po' controcorrente le idee nessun rispetto rispetto è per le persone se uno sostiene delle idee ignobili io non devo rispettare quelle idee qualcuno che è antisemita che è a favore dello sterminio degli ebrei io non sono tenuto a rispettare quell'idea sono però tenuto a rispettare la dignità umana della persona come essere umano quello sì però non sono costretto a dire che chi invoca lo sterminio è come se stesse dicendo che Roma-Lazio del girone di ritorno era una partita truccata no non è un'idea come tutte le altre molto spesso negli studiosi capita che c'è questo buco che mangia dentro perché si sa molto quello che la gente non vede perché si è studiato si è stato dentro a quello di cui si sta parlando di cui i giornali mass media stanno parlando credo che ci siano state delle emozioni prima che nascesse il libro prima che nascesse tutto questo da parte tua incredibili e forse anche un senso di rabbia infatti ricordo di nelle prime pagine in cui spiegavi che avevi spesso ti capitava visto che eri nel roster diciamo dell'aviazione di poter di poter parlare che comunque capitava di parlare di justica e le persone non sapevano oppure dicevano quello per sentito dire quello che avevano sentito nelle conversazioni e poi ovviamente arrivavi tu che spiegavi un po' la situazione loro dicevano sono rimaste a bocca aperta quello quello è uno delle molle per cui è nato il libro è un po' come il libro che prima o poi scriverò un manualetto più che un libro su come si fa una tesi di laurea perché io lo spiego a ogni studente e poi lo rispiego a quello successivo e lo rispiego diciamo alla fine ma se fai un libro in cui dici come si lavora metti diciamo a fattor comune tutti questi consigli individuali e lo condividi con tutti ecco il libro è nato allo stesso modo diciamo stufandosi di dover interrompere una simpatica cena per dire che quello che stavi raccontando non era vero non era così eccetera e magari delle volte anche arrabbiandosi scaldandosi un po' di fronte alla incapacità l'incapacità della mancanza di strumenti critici io penso che per esempio spesso tutti noi cadiamo in questo in questa buca in questa trappola dove non esercitiamo il pensiero critico sulle cose attenzione pensiero critico non vuol dire bastian contrario non vuol dire sempre il contrario di tutto significa cercare di capire cosa ci stanno dicendo facciamo l'esempio più più tipico una statistica il 37% degli italiani fa o non fa qualche cosa come l'hai raccolto quel dato se è un dato su tutta la popolazione è un conto se è un'estrapolazione da un campione di 200 persone il tasso d'errore è più grande come sono costruite le domande perché si possono fare delle domande neutre o delle domande suggestive in un sondaggio fatto bene per esempio ci sono delle domande alternative che si incrociano e servono a vedere se la risposta è sincera o se è coerente a prescindere dal modo in cui viene posta eccetera ecco io credo che quello sia un qualcosa il dubbio metodologico che va coltivato e va insegnato e va spiegato come si risponde che è diverso ripeto al non credere a niente perché i professori sono tutti degli stronzi i professori si credono chissà cosa e quindi io non ci credo no quello non è accettabile però avere una griglia di lettura della realtà avere dei parametri sapere dove andare a vedere sapere come verificare quello è uno strumento prezioso che va coltivato e c'è da chiedersi se facciamo abbastanza come società come scuola come università per coltivare questo dubbio per coltivare il modo in cui rispondere ai dubbi perché molto spesso ci sono delle trappole cognitive ci sono dei meccanismi che portano a risposte errate anche in buona fede in altri casi ci sono persone o organizzazioni che manipolano scientemente l'opinione pubblica e quindi anche lì la domanda è perché ci credi o meglio perché gli dai fiducia cos'è che ti convince per esempio l'altro giorno è girata una frase piuttosto contorta attribuita a Elie Schlein era vera perché ci credo perché me l'ha mandata un mio amico nella chat perché lo dicono tutti gli amici del calcetto o sono andato a verificare e ho trovato la registrazione ho trovato l'evento in cui l'ha detto perché non tutto quello che ci diciamo anche in buona fede tra amici tra persone serie è necessariamente vero può essere semplicemente l'opinione comune media e quindi quali sono gli strumenti che abbiamo di verifica se sono strumenti fondati strumenti seri strumenti in buona fede anche loro sono preziosi se invece non credo a niente di quello che dice Andrea perché Andrea mi sta antipatico beh allora non è utile è utile se ad esempio riconosco che Andrea ha una competenza su qualche cosa ne sa più di me e quindi posso immaginare che Andrea abbia fatto una verifica prima di parlare questo credo sia molto importante ed è una delle diciamo delle lezioni di quel libro vai a controllare vai a vedere informati e poi scrivi io ce l'ho mi sembra non mi ricordo più se sul mio facebook o sul mio twitter che adesso si chiama x qui dico preferisco sbagliare in proprio piuttosto che dire balle in conto terzi ecco sbagliamo tutti nessuno di noi è perfetto nessuno di noi ha la verità in tasca però se ci arrivi con un percorso avendo letto avendo studiato avendo verificato eccetera è un conto puoi sbagliare però puoi dimostrare di avere fatto i compiti e di sapere argomentare se invece è perché ce l'ha raccontato qualcun altro che ci stava simpatico eccetera beh forse non è sufficiente e questo credo che sia importante se lo volete in una battuta del mondo giornalistico americano abbastanza divertente è se la mamma ti dice che ti vuole bene fattelo confermare da una fonte indipendente cioè non credere a nessuno ma non credere salvo che quando te lo dice la fonte indipendente poi ci credi quindi non è ripeto il bastian contrario è quello che crede perché ha controllato se lo vogliamo mettere in senso religioso no eh signore credo fortifica il mio dubbio perché è il dubbio che rende eh serio il credere non l'apertura di credito a prescindere senza verifiche lei lei ha detto e ha scritto più che ha detto perché io l'ho letto una fonte plagio dieci fonti sono ricerca cosa significa? beh è il dettaglio di questo è quando ogni tanto ci sono gli studenti che chiedono ma quanti libri devo leggere per fare la tesi una risposta è tutti quelli che servono l'altra però è che se fai una tesi di cento pagine su tre libri l'hai sostanzialmente copiata a prescindere dal fatto che eh abbia usato materialmente le stesse parole o ne abbia fatto un riassunto dieci fonti significa confrontare significa vedere dieci punti di vista e su quelli formarsi la propria opinione quindi la ricerca è proprio dire credo a questo perché eh ho parlato con la legge mi ha detto una cosa eh ho parlato con Andrea me ne ha detta un'altra eccetera alla fine di questo concludo che questa ricostruzione mi sembra la più ehm attendibile ecco quindi dieci fonti sono ricerca in qualche modo vale anche appunto per gli studenti vale per una tesi vale su quell'argomento possibilmente piccolo possibilmente piccolo chi ha letto dieci eh fonti chi ha trovato dieci fonti è l'esperto rispetto a tutti gli altri rispetto a tutti gli altri anche al suo professore perché il professore eh su quel eh tema specifico magari ha letto un libro solo ne ha letti due ma su quel tema l'esperto è chi ne ha letti dieci e chi ha fatto effettivamente la ricerca chi ha cercato di eh prevenire i dubbi si è fatto le domande cattive e ne ha dato delle risposte invece dipendere da una fonte sola torniamo a quello che dicevamo prima me l'hanno detto i miei amici e le opinioni di mio cugino me l'ha detto il mio professore una volta mi ha colpito in una tesi adesso non facciamo diciamo il peccato ma non il peccatore trovare che diciamo il candidato a un certo punto scriveva professore ma qui ci devo mettere la sua vita morte e miracoli no non devi perché su quel tema su quella ricerca devi essere più bravo di me quindi non ci devono essere appunto la dipendenza da una fonte sola ci deve essere la verifica e poi magari dire guarda che effettivamente la tesi del professore regge alle principali obiezioni che sono state sollevate oppure che le altre fonti consultate confermano l'impostazione che ha dato il professore quindi bisogna essere curiosi è il motivo per cui quando si fa qualcosa che si ama qualcosa che entusiasma qualcosa che appassiona altro che dieci fonti uno ne trova cento ne trova mille perché diventa una caccia al tesoro in cui messo giù il primo libro guardo il secondo video faccio la terza intervista guardo il quarto film vedo tutta una serie di fonti non necessariamente verbali possono essere appunto grafiche possono essere di altro tipo e riesco a diventare l'esperto di quel tema quello che ne sa più di tutti se invece mi limito a prendere il libro di Aleggi e farne il riassuntino quello se non è un plagio nel senso che ho usato letteralmente le sue parole però è un plagio intellettuale perché ho preso le sue idee senza nulla aggiungere senza nulla cambiare senza nulla verificare sempre nel suo libro ho scavato tantissimo ho letto che lei quando ha fatto le interviste a tutti i generali con cui poi poi diciamo stretto rapporti molto amicali sentiva questo senso da parte loro come di di massima felicità perché ormai quelle storie nessuno più le voleva ascoltare e lei andava lì parlava domandava chiedeva questo senso Nì nel senso che i generali in realtà i principali protagonisti il generale Bartolucci il generale Ferri il generale Tascio e molto meno il generale Melillo che l'ho frequentato di meno in qualche modo soffrivano per l'essere ricordati solo per Ustico una cosa nella quale intimamente sentivano di entrarci poco ricordiamoci l'incidente a un velivolo civile o la distruzione criminale di un velivolo civile che volava sotto il controllo delle autorità civili militari non c'entravano niente gente che aveva avuto carriere brillanti luminose ma anche di grande impegno si sentiva ridotta a una cosa che nella loro vita professionale era stata uno zero virgola quasi nulla anzi forse nulla e quindi erano contenti di raccontare cosa avevano fatto faccio un esempio Bartolucci raccontava della sua esperienza di partigiano di resistenza militare contro i tedeschi durante l'occupazione di Roma quindi diciamo dall'otto settembre 43 al giugno 44 quando poi Roma viene liberata e lui si riunisce all'aeronautica e riprende a fare l'aviatore ecco è interessante lui aveva piacere che si ricordasse questo così come altri episodi della sua carriera Zeno Tascio è quello che ha inventato il nominativo radio delle frecce tricolori ogni aereo viene identificato con il numero sulla coda e con il nome Pony quindi Pony 1 Pony 2 eccetera che sono anche dei ruoli ben precisi ecco quel Pony l'aveva inventato Tascio e così via loro di queste cose avevano piacere e in qualche modo erano delle storie che volevano raccontare che probabilmente in casa nessuno più voleva sentire mentre su Ustica parlavano malvolentieri non tanto perché avessero qualcosa da nascondere perché poi alla domanda rispondevano sempre ma proprio perché non volevano essere appiattiti non volevano che un'intera esistenza fosse appiattita su quello invece l'atteggiamento di interesse a parlare del caso c'era nei periti stranieri ho intervistato a lungo Frank Taylor Joran Lilia e Gunno Gunval ecco i due svedesi Lilia e Gunval sono andati a intervistarli a casa in Svezia e quello che era interessante era vedere come fossero disponibilissimi a parlare raccontare e si meravigliassero che nessun giornalista italiano fosse mai stato interessato a sentire la loro storia nessuno li aveva mai cercati ecco anche lì torniamo alle diverse fonti al plagio eccetera perché non sono stati mai sentiti perché portavano probabilmente perché portavano una verità tecnica diversa da quella che il magistrato che i media italiani portavano cioè loro parlavano tranquillamente di come si fossero convinti di come fosse inevitabile giungere alla conclusione di una bomba nella toilette e l'avrebbero raccontato a tutti volentieri se qualcuno glielo avesse chiesto cosa che però in Italia non non interessava erano persone con un curriculum professionale sono Gunno Gunval è morto un anno e mezzo fa ma Joran Lilia e Frank Taylor sono ancora tra noi sono persone con un curriculum professionale eccezionale così come lo erano altri membri del collegio per italia penso ai due tedeschi i professori Hans Forsching e Manfred Hell che quando si va a vedere cosa avessero fatto si resta veramente a bocca aperta ecco e loro avevano piacere di raccontare assolutamente avevano piacere di raccontare e di spiegare perché se ne fossero convinti ovviamente ognuno con la propria personalità gli svedesi sono più chiusi sono più inquadrati di poche parole Taylor è invece una persona con un humor inglese anche tagliente anche acido che è quello che ogni tanto l'ha messo nei guai in Italia dove appunto le sue battute semplicemente non sono state capite però sono persone ripeto disponibilissime al confronto disponibilissime al racconto e quindi la domanda che viene è perché nessuno le ha mai volute ascoltare perché addirittura quello che hanno detto in tribunale in tribunale non è noto questo vale anche per il professore Amato che in tribunale nel 2001 ha detto cose molto diverse da quelle della sua recente intervista e lì era sotto giuramento e quindi come mai dopo senza che siano intervenuti fatti nuovi dice cose diverse perché in punta di diritto ci sarebbe da chiedersi quale delle due versioni sia corretta ma se non fosse corretta quella in tribunale si chiama falsa testimonianza tanto per dire ecco perché queste storie nessuno le ha raccontate perché come dico nel libro non c'era nessuno lì a seguire il processo peraltro il processo facendo un lavoro eccellente un servizio eccellente di cui gli va dato merito l'ha seguito è trasmesso tutto Radio Radicale per cui si può anche sentire adesso online andando sulla pagina Radio Radicale ci sono le registrazioni quindi torniamo al discorso del credere in quanto come dire opposto a convincersi credo nel senso che qualcuno me l'ha detto e io mi fido mi convinco perché ho ascoltato ho seguito e alla fine sono giunto a una conclusione questo credo sia piuttosto importante e nel parlare con i testimoni si percepiva tanto si percepiva appunto il non volersi far inchiodare non volersi far ridurre a un episodio tutto sommato minore della loro vita ma anche la disponibilità al confronto non appena percepivano che l'interlocutore non era lì per come dire per accusarli a prescindere ma era lì per ascoltarli le istituzioni sono state inconsapevoli complici oppure semplicemente acquiescenti per non avere comunque ritorsioni e ha parlato anche molto spesso di difanta politica cosa realmente è successo a livello politico allora la sentenza di appello lo dice chiaramente parla di queste ricostruzioni che non avendo appigli concreti sono buosi per fondarci un romanzo ma non per fondarci una sentenza non sto parafrasando ma è questo che dicono fantapolitica è il processo diciamo inverso a quello che vorremmo fantapolitica è decidere che c'è uno scenario uno scenario diciamo che oggi chiameremmo geopolitico delle tensioni e decidere che un certo avvenimento è il frutto di quelle tensioni anche se non ne ho prove materiali non ho evidenze mentre il procedimento più corretto dovrebbe essere vedere cosa è successo e poi cercare chi l'ha fatto torniamo al solito esempio è inutile cercare l'automobile che ha investito il signor Rossi se l'autopsia mi dice che al signor Rossi gli hanno sparato quindi la fantapolitica è questa dimensione di voler collocare tutto all'interno di scenari spesso esistenti a monte in qualche modo dei pregiudizi cioè dei giudizi fatti prima anziché su quello che risulta anche perché poi c'è tutta la domanda di perché ritengo certi scenari credibili e altri no ovvero perché dovrebbe essere credibile l'idea di un rocambolesco tentativo americano francese o di chi altri di uccidere Gheddafi durante un viaggio e invece non dovrebbe essere credibile lo scenario di un gruppo terroristico ad esempio palestinese o libico che mette la bomba sull'aereo un gruppo terroristico palestinese o i servizi segreti libici o forme di collaborazione fra di loro perché su questo abbattimento del 19 per errore per colpire un altro aeroplano nascosto eccetera non ci sono le prove mentre sappiamo che per esempio la Libia ha distrutto altri aeroplani civili ammazzando tanti passeggeri in almeno due occasioni il jumbo a Lockerbie nell'88 e in precedenza il DC-10 francese sul Chad così come sappiamo che un gruppo terroristico SIC ha fatto saltare un jumbo della compagnia Air India a largo dell'Irlanda quindi sappiamo perfettamente che questi scenari sono possibili perché sono accaduti non vuol dire che sia autodimostrata la bomba però sappiamo che in quegli anni ci sono stati attentati agli aeroplani abbiamo trovato tracce inequivocabili di esplosione interna nella toilette del 19 la possibilità di una distruzione con bomba non è fantapolitica è reale mentre non ci risultano casi in cui la Francia gli Stati Uniti o addirittura si è parlato di Israele abbiano abbattuto di notte aerei di linea con un caccia quello semmai l'hanno fatto i sovietici con il 747 coreano gli Stati Uniti hanno abbattuto per errore un Airbus A300 nel Golfo Persico con un missile peraltro lanciato dalla nave ma hanno ammesso la loro responsabilità hanno pagato i danni hanno punito il comandante della nave eccetera quindi la fantapolitica è quella dove si costruisce uno scenario quasi cinematografico quasi romanzesco e poi si va disperatamente a cercare pezzi di evidenze che lo possano supportare che lo possano confermare e peggio ancora quando cercando questi pezzi di carta queste prove e non trovandole si accusa qualcuno di averle fatte sparire quindi è un procedimento non logico non razionale non liberale pericolosissimo se le prove non ci sono scusate se le prove non si trovano non vuol dire che non esistono ma vuol dire che qualcuno le ha fatte sparire questo è complottismo puro ed è una forma estremamente pericolosa di fantapolitica e quando si incomincia a credere che i romanzi siano veri quando si io lo trovo ogni tanto con gli studenti su qualche tema quando certi film storici vengono scambiati con documentari o con la realtà pensate al film JFK di Oliver Stone che non è come è stato ucciso Kennedy è la versione di Oliver Stone ma è una versione romanzata e non assolutamente quella confermata questo non vuol dire che non si possa guardare il film che non ci si possa divertire guardando il film che non ci si possano fare domande sul film ma resta un film resta un'interpretazione non la verità resta appunto fantapolitica a me non riesce a uscirmi dalla testa un episodio che lei ha raccontato nel libro in cui lei ha fatto un'intervista per un un grande mass media una grande testata televisiva dove lei aveva chiesto esplicitamente che voleva parlare di Ustica c'erano delle domande prima di arrivare ad Ustica le avevano fatto anche queste domande poi in fase di montaggio hanno rimontato tutto e non gli hanno dato la possibilità di farsi ascoltare da milioni di italiani quello forse non ero io ma era il mio coautore il generale Tricarico però il senso è quello che spesso spesso c'è del del timore a esporsi perché non è tanto il fatto che io o il generale Tricarico o qualcun altro ci mette la faccia e dire guarda io mi assumo la responsabilità di quello che dico ma che in qualche modo ci sia chi invece non vuole assumersi la responsabilità di avermelo fatto dire perché gli erai detto perché l'hai invitato questo è successo varie volte ad esempio in alcune trasmissioni dove giustamente i conduttori volevano dare in qualche modo spazio uguale alle diverse tesi il chi sosteneva il missile si è rifiutato di comparire sapendo che c'era chi avrebbe parlato della bomba ma non comparendo ha fatto saltare anche la presenza dell'altro quindi appunto facciamo un dibattito se sia meglio Roma o Lazio il laziale dice se ci sono i romanisti io non vengo e a quel punto non parla nemmeno il romanista quindi anche quella è una forma di censura perché la libertà è dare a tutti la possibilità di parlare ma a nessuno il diritto di veto se io per qualche motivo non voglio intervenire non vuol dire che Andrea non ha diritto a esprimere la sua parola ciascuno di noi può valutare se sia meglio non parlare se sia meglio lasciar parlare solo la tesi opposta oppure assumersi il rischio di andare di confrontarsi e magari di non convincere quello è sicuramente un problema che esiste quello della autocensura oltre alla censura l'autocensura cioè non farla nemmeno la domanda no? non creare nemmeno la situazione dove la domanda possa essere fatta questo credo vada a minare comunque la democrazia la libertà la non superficialità l'unica eccezione con Popper l'unica eccezione il paradosso della democrazia è che i privilegi i diritti le garanzie della democrazia non possono essere concesse a chi vuole utilizzarli per distruggerla ma siccome nessuno di noi qui vuole distruggere la democrazia è bene che si possa esprimere tutto sommato stiamo facendo un ragionamento su un fatto passato su un fatto che ho preso un dato statistico la mediana della popolazione italiana cioè il punto che divide in due metà sopra metà sotto la popolazione italiana è 44 anni quindi semplificando siamo nel 23 quasi nel 24 metà della popolazione italiana di oggi non era neppure nata quando nel giugno dell'ottanta è caduto l'aereo di Ustica quindi quello è un dato che fa che fa riflettere il fatto che qualcuno voglia indirizzare verso una sola spiegazione ciò che è accaduto voglia togliere la possibilità di discutere apertamente sulla storia italiana e ripeto io sono fermamente convinto che ci siano delle posizioni che non hanno diritto di cittadinanza quindi quelle eversive quelle estremiste come diceva Popper chi è contro la democrazia non può appunto rivendicare l'uso degli strumenti democratici per ribaltarla ma noi non stiamo facendo questo stiamo guardando dei documenti e stiamo leggendo quello che c'è scritto quello che mi ha colpito dal punto di vista democratico era proprio che a questi processi in queste aule che trattavano di un tema così importante in realtà non ci fosse nessuno quindi che ai cittadini non interessasse che avesse non so se appaltato a terzi il compito di informarli o proprio non gliene fregava nulla del caso e anche quello sarebbe interessante perché se il caso in qualche modo non interessa più perché ci viene inflitto perché ci viene presentato perché ci viene continuamente ricordato come verità di stato anziché come tragedia tremenda della quale purtroppo non sappiamo che è responsabile questo credo che sia una cosa che ci dobbiamo chiedere perché ci debba essere una verità non dimostrata perché ricordiamoci che nessuno è stato rinviato a giudizio mai per la distruzione dell'aereo perché non si possa discutere di questa narrazione di questi scenari che al momento non sono mai stati oggetto di una decisione giudiziaria non c'è qualcuno che è stato accusato di aver distrutto l'aereo e sia stato condannato mentre per esempio per la strazione di Bologna ce l'abbiamo ci sono dei responsabili che in dei processi sono stati ritenuti responsabili e condannati per Ustica non ce l'abbiamo per Ustica abbiamo delle persone accusate di aver depistato di aver detto bugie e che sono state assolte completamente dall'accusa di aver detto bugie però se loro non hanno detto bugie ciò che hanno detto è vero e quindi non c'è la battaglia aerea non c'è nient'altro perché loro questo hanno detto non c'erano aereo in cielo non c'erano missili e così via credo che queste siano tutte riflessioni importanti perché su un caso aperto perché purtroppo non sappiamo chi sia il mandante non sappiamo chi sia l'esecutore materiale di questa distruzione che è costata la vita a 81 italiani perché sia così eretico dire che ci sono evidenze fisiche ci sono piste di indagine ci sono cose che inducono a convincersi della presenza di una bomba vorrei chiudere l'intervista sicuramente consigliando il tuo libro l'ultimo riguardo Ustica e poi chiedendoti quale libro oltre ovviamente al tuo consigli a una giovane un giovane che che vuole iniziare ad avere questa mentalità da giornalista da storico sì intanto dico una cosa io non amo assolutamente l'espressione l'ultimo libro perché se me porta una sfiga tremenda io dico il più recente vorrei vivere abbastanza da poterne scrivere altri lo dico sempre dico sempre il libro più recente anche nel frattempo qualcun altro di tipo meno serio eccetera l'ho fatto ecco quale libro consigliare beh dipende dipende da quale profilo sicuramente il vecchio libro di Umberto Eco come si fa una tesi di laurea che io l'ho letto a 15 anni ero ancora al liceo spiega bene il processo di ricerca di valutazione delle fonti di come si scrive è un po' una palla perché non è un romanzo no però dà delle idee che lasciamo perdere che lui l'ha scritto al tempo della macchina da scrivere degli appunti a penna non c'era il computer ma il processo logico è quello se vogliamo andare invece su un piano ideale direi di leggere adesso non mi ricordo il titolo in italiano ma la vicenda dei Pentagon Papers quindi della pubblicazione da parte del New York Times dei documenti segreti del Pentagono sulla guerra in Vietnam il Pentagono aveva commissionato una valutazione molto segreta su come vanno davvero le cose stiamo vincendo stiamo perdendo New York Times ne entra in possesso e la pubblica questo crea dei problemi perché era materiale molto segreto eccetera eccetera alla fine diciamo vincono i giornali viene sancito il diritto a pubblicare che non ci può essere censura preventiva ecco quella è una storia molto bella che ci racconta del dovere di informare ma anche del dovere di prendersi rischi perché tutta la discussione era sulla censura preventiva non sul fatto che si potessero pubblicare documenti segreti documenti segreti non si possono pubblicare chi lo fa si espone a essere punito però io non glielo posso impedire prima questo è è un po' come Minority Report se vogliamo sul fatto che si condanni l'intenzione di violare la legge o no quindi sui Pentagon Papers ci sono dei libri che sono stati anche tradotti in italiano e li suggerisco un altro libro molto bello purtroppo non tradotto in italiano anzi diciamone uno tradotto sui falsi diari di Hitler che è un libro giornalistico una cronaca giornalistica negli anni fine 80 primi 90 escono fuori dalla Germania Est dei diari di Hitler segue tutto un caso molto grande alla fine si conclude che sono falsi materialmente falsi anche grossolanamente falsi perché come dice l'autore le lettere a H Adolf Hitler in caratteri gotici sulla copertina del volume manoscritto del diario erano di plastica incollati col bosti che dice quindi non serviva una grande perizia una grande analisi scientifica CSI per capire che erano delle patacche ecco quello è interessante è scritto come un romanzo quindi quello è divertente da leggere perché ci spiega come ci si possa innamorare di qualche cosa fino al punto di sospendere anche il senso critico ripeto guardo una cosa che c'ha le lettere di plastica incollate col bostik anziché accendersi l'allarme falso 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 dico no voglio credere che è vero ecco poi c'è anche chi lo faceva ovviamente per guadagnare l'editore tedesco eccetera vuole pubblicarli vuole farci un sacco di soldi e quindi anche lì è portato per denaro a credere a qualcosa di incredibile ecco questi credo siano tutti dei bei libri poi se vogliamo andare su cose metodologiche ripeto purtroppo non tradotto in italiano ma c'è la sentenza di condanna a David Irving David Irving è un storico molto discusso del nazismo lui querelò una storica americana Deborah Lipstadt che all'epoca insegnava a Harvard che gli aveva dato del neonazista lui si offese e la querelò per diffamazione e perse la casa editrice della professoressa Lipstadt Penguin pubblicò le motivazioni della sentenza di condanna sono terribili come ogni volta che si legge qualcosa sull'olocausto perché questa contabilità della morte questo dettaglio dello sterminio financo del riutilizzo dei resti umani i capelli i denti d'oro è una cosa agghiacciante quello che è interessante è che il giudice mette a confronto in maniera estremamente analitica le affermazioni di Irving con i risultati della ricerca storica e quindi ci fa vedere senza troppo legalese questo è molto bello c'è una sentenza che bisogna sapere l'inglese però è un inglese molto semplice molto chiaro molto trasparente il processo in base al quale Gregory o Andrea si convincono che una cosa è vera o non è vera quindi metodologicamente è molto bello perché lo dice chiaramente se questo è così questo è così eccetera è andata in questo modo è andata in quest'altro modo e alla fine come dire tira le somme di queste diverse osservazioni di queste diverse conclusioni parziali e dice no Irving non è stato diffamato perché uno che dice questo dice questo dice questo nonostante i fatti dimostrano il contrario è legittimo chiamarlo un neonazista quindi ci fa vedere il processo di studio che dobbiamo usare e che in piccolo vale per il giornalista vale per lo storico in fondo queste due anime non so se la mia metà a destra sia il giornalista la mia metà a sinistra sia lo storico oppure quella alta è lo storico quella bassa più di pancia è il giornalista però alla fine il procedimento è lo stesso è in base a cosa mi convinco che le cose siano andate esattamente così una frase che mi insegnò appunto il mio maestro De Felice una frase di un grande storico tedesco dell'ottocento von Ranke che diceva raccontare le cose così come sono andate ora è difficilissimo dirlo perché prima devi scoprirlo come sono andate però il punto è proprio quello lo storico e il giornalista fanno la stessa cosa ti raccontano come sono andate le cose con alcune differenze per esempio il giornalista lavora di fretta e quindi è più esposto allo sbaglio perché non ha il tempo per rielaborare la stessa cosa che io dico invece agli studenti che è volete fare una tesi di storia degli Stati Uniti partiamo da vent'anni fa perché le cose di questa settimana è chiaro che tutti vorremmo siamo affascinati da eventi recenti Trump l'assalto a Capitol Hill eccetera ma siamo abbastanza lontani da quegli eventi da poter fare un discorso storico oppure siamo talmente vicini ci abbiamo l'abbiamo vissuti tra virgolette magari solo rimanendo incollati alla diretta della televisione siamo troppo vicini per poter avere quella distanza critica quel giudizio critico anche quel disinteresse perché in qualche modo se io sono troppo interessato a ciò di cui scrivo posso essere tentato di forzare i fatti nella mia direzione in questo senso forse la persona migliore per scrivere una storia del Milan non è un milanista ma è un tifoso del Venezia è un tifoso del Parma di una squadra che in realtà non ha nulla a che vedere col Milan perché tutti gli altri potrebbero essere degli avversari potrebbero essere dei soggetti che in qualche modo hanno qualche cosa da rivendicare hanno qualche lagnanza attiva sotto certi aspetti possiamo essere come dire indipendenti possiamo essere autonomi dai fatti solo se siamo lontani quindi è più facile scrivere obiettivamente sull'antica Roma che non sulla Roma dell'altro ieri in cui c'eravamo paradossalmente dell'antica Roma sappiamo di meno abbiamo più buchi di conoscenza non possiamo intervistare Giulio Cesare eccetera ma appunto paradossalmente questo distacco ci permette di essere più obiettivi mentre se parliamo della Roma dell'altro ieri potremmo lasciarci influenzare dal fatto che la zia è caduta in una buca dal fatto che un amico di mio cugino lavora al Campidoglio e mi ha detto che il sindaco gli ha detto una parolaccia o gli ha reagito nervosamente quindi paradossalmente quello che ci serve è unire la passione per la verità alla distanza critica dai fatti concludo con questo quello che dico sempre l'impegno che prendo ogni anno a inizio corso con gli studenti e dico guardate l'impegno è quello di è questo si ragiona col cervello e si vota col cuore mai votare col cervello e invece ragionare col cuore perché se segui le passioni in qualche modo non ragioni le passioni sono per l'amore sono cose per le cose dove non devi fare calcoli devi buttarti ma quando scrivi che sia storia o giornalismo devi essere lontano devi cercare il più possibile di stare fuori dalla mischia e non è sempre facile perché quando ci si mette su temi ai quali teniamo indubbiamente bisogna fare uno sforzo in più per restare distanti voterò col cuore questo è sicuro e grazie mille Gregory questo era Gregory Aleggi per Unifans e grazie a tutti per averci ascoltato fino a qui grazie a voi per l'invito grazie a tutti